Ci troviamo a Gambarie, sulla Spromonte, la neve è arrivata, qui molto copiosa a dire il vero, temperature anche sotto lo zero, le festività natalizie trascorse qui a Gambarie per migliaia di persone. Incontriamo Luca Lombardi e dunque, Luca, dobbiamo dire che Gambarie per le festività natalizie si è imbiancata e dobbiamo dire che la gente non è tardata ad arrivare. Assolutamente sì, davvero un bel regalo quest'anno a Natale, ovvero questa bellissima neve che ha consentito a questa splendida località di lavorare, di accogliere moltissimi turisti, moltissimi dei quali anche da fuori regione. Noi registriamo una presenza massiva soprattutto di siciliani che sono venuti a trovarci per le festività natalizie, diverse strutture hanno registrato il tutto esaurito nel periodo di Natale, grazie anche ai pacchetti che tutte le strutture che i nostri alberghi hanno formulato in questi giorni. Ora siamo ormai agli sgoccioli, è passato il Natale, aspettiamo adesso il Capodanno per il quale registreremo anche in quelle date una presenza molto buona di turisti. Aspettiamo anche nuove nevicate per fine anno, le nostre strutture sono pronte, offriamo diversi servizi, abbiamo una gastronomia tipica, prodotti del territorio che cerchiamo di valorizzare al meglio e offriamo anche servizi come ad esempio i nostri centri benessere, piscine e così via. Tutto ciò per permettere a chiunque venga a trovarci di trascorrere un buon soggiorno e appunto di avere modo anche di apprezzare tutte le bellezze della nostra montagna. Luca, la Calabria che piace? Quella anche di Gambari e della Spromonte, soprattutto la presenza di tante famiglie che arrivavano dalla Sicilia, anche dalla Puglia, ieri abbiamo visto anche gente dalla Basilicata e questa veramente è la Calabria migliore? Assolutamente sì, non bisogna come spesso si fa magari cadere nella retorica del parlarmare necessariamente della propria terra ma bisogna secondo me avere la capacità di vedere il buono che c'è, le cose che migliorano e soprattutto gli aspetti positivi appunto e noi di fatti questa cosa la possiamo anche registrare poiché anche rispetto agli anni passati vediamo un continuo incremento delle presenze e questo non può che fare piacere a noi e credo a tutti. Se c'è qualcosa da migliorare Luca, così lanciamo il messaggio anche agli amministratori, tu su che cosa puntereste per migliorare qualcosa? Allora c'è sempre ovviamente qualcosa da migliorare, sicuramente avremmo un po' bisogno di maggiore attenzione da parte degli enti e degli amministratori, apprezziamo alcuni sforzi che sono stati fatti negli anni passati ma ad onor del vero riteniamo che ancora non sia sufficiente per rendere giustizia in una località come Gambarie che ancora ha una prospettiva di sviluppo molto maggiore rispetto a quello che noi vediamo oggi, però io credo che non sia solo un problema degli amministratori ma siamo anche noi stessi che dobbiamo saper cogliere quelle che sono le opportunità della nostra terra e crederci un pochino di più e investire un poco di più. La neve dietro le nostre spalle come si evidenzia dalle nostre immagini a Gambarie è arrivata, le prossime ore dicono di una nuova perturbazione per cui il prossimo weekend è probabile che ci sia ancora un'altra abbondante nevicata che farebbe piacere naturalmente a tutti e soprattutto per colorare questo fine anno. Assolutamente sì, tra il 29 e il 30 come dicevamo è prevista una nuova nevicata, speriamo sia abbondante, speriamo che sia il preludio di una stagione sciistica e invernale assolutamente buona, non ci resta insomma che incrociare le dita e sperare che la neve arrivi presto. Aguri! Tanti auguri a tutti, grazie.